Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che manda in onda la seconda parte tra la missione Magia, Stragoneria, Paganesimo, come ogni giovedì è dalle ore 19 da Radio Gamma che trasmette su 94FM. Io vi ricordo sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, ormai lo conoscete, è Casella Postale 53 Malostica, Vicenza. Questa sera, la sera io normalmente leggo il Sentiero d'Oro, cioè eravamo arrivati alla fine dell'immagine del Sentiero d'Oro e stavamo facendo le classi sacerdotali del Sentiero d'Oro. Invece questa sera in via eccezionale, diciamo così, diversa dal solito, faccio una trasmissione molto diversa, nel senso che vado ad affrontare alcuni utilizzi pratici della stragoneria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la stragoneria, il coraggio dello stragone che vi sto elencando, anche se io cerco di usare un linguaggio abbastanza complesso, nel senso che sia generale, è una cosa pratica, è uno strumento da usare praticamente. Cioè la trasformazione di noi stessi è una cosa che viene a incidere nella vita, è una cosa che ci permette di affrontare la vita stessa. La stragonaria e il paganesimo non sono delle cose semplicemente da parlare, ma sono delle cose da vivere. Cioè è la vita che determina se quello che noi crediamo, quello che noi facciamo è corretto o non è corretto. Cioè è come noi affrontiamo la vita. La stragonaria non ha nessun senso parlare di stragonaria o discutere di stragonaria se le cose restano a livello di discussione. E vi ricordo che la stragonaria non è in grado di fermare le pallottole che arrivano addosso. Cioè non esistono delle arti magiche o qualcosa che ferma la pallottola che ti trapassa. La stragonaria mette in essere strategie di vita affinché nessuno si metta nelle condizioni di essere sparato. Cioè questo è importante. Cioè praticamente la stragonaria ti permette di fare in modo di non trovarti mai nella situazione in cui qualcuno decide di spararti. Però nella misura in cui qualcuno ti spara addosso, tu non fermerai mai le pallottole. Allora, la stragonaria è l'arte di vivere. Non è l'arte di manipolare l'esistente o manipolare le cose. La stragonaria è un atto, è un sistema, è un strumento che ti apporta ad affrontare la vita. Il crogiolo dello stragone di cui noi parliamo, ricordo che non rispondo alle telefonate se non gli ultimi 5-10 minuti, non di più. E mi riservo di buttare giù tutte quelle telefonate che pretendono di discutere le cose che dico o fare delle affermazioni che ritengo inopportune e assurde. Cioè è chiaro che ho tanta gente che è contraria a quello che dico. La gente che è contraria a quello che dico lo dice da un'altra parte. cioè contesta o contesta il merito di quello che dico oppure sparare le cazzate tipo quella di Luigi oggi è roba da buttare giù la telefonata perché è offensiva in quanto non tiene presente tutto quello che noi diciamo ma tiene presente soltanto gli elementi della propaganda cattolica oltretutto. Per cui è solo una sconcezza, tanto per essere chiari. Per cui quando io dico il crogiolo dello stragone, il crogiolo dello stragone è lo stragone stesso, cioè è la persona stessa che manipola se stessa. E il termine di manipolazione delle persone è un termine ben cosciente all'interno del cristianesimo. Cioè il cattolicesimo non fa altro che manipolare la persona in modo da costruirla per i propri fini. E di questo ne abbiamo parlato nel crogiolo del male. Il crogiolo dello stragone invece tende a modificare la persona per cambiare il modo con cui la persona affronta la vita e valuta la vita di tutti i giorni, costruisce il suo giudizio. E questa è l'arte della stragoneria, è appunto l'arte di vivere. Cioè non è l'arte di fermati vento, risorgi lazaro, queste sono cazzate, ve l'ho sempre detto, queste sono il trucco con cui fermare la percezione delle persone e impedirle di vedere che cos'è la magia. I due atti magici fondamentali della vita è la nascita e la morte. Lo spazio che esiste fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico è l'arte, è lo spazio in cui si estrinseca la stragoneria. Per cui la stragoneria è manipolazione dell'individuo mentre guarda il mondo, cioè è l'individuo che manipola se stesso per affrontare al meglio del mondo. E per andare avanti con questo discorso vi farò alcuni esempi. Naturalmente gli esempi che vi faccio, siccome ho una traccia da seguire, ho una traccia di cose da dire, però non le ho scritte le cose, per cui vado a braccio e vengono fuori per come vengono fuori. Per cui perdonate se i discorsi verranno mozzicati o se tutto quello che devo dire in realtà non lo dico, dico soltanto una parte. Per cui chiedo vengia per questo perché ho degli appunti ma non ho i discorsi scritti. Allora, il primo di questi discorsi prende l'avvio, ripeto sempre che non rispondo alle telefonate, il primo di questi discorsi prende l'avvio dal giornale Il Gazzettino, un articolo del 18 settembre 1998. L'articolo è praticamente ex scout pedofili, oltre 300 giovani vittime in dieci anni. Cosa è successo? Una banda di pedofili si è infiltrata in un'organizzazione sessionistica di Boy Scout, la Bander Powell, Scout Association, dove per decenni, questa banda era presente in quella associazione per decenni, ha sottoposto a torture e abusi sessuali almeno 300 giovani, alcuni di soli 8 anni. La notizia pubblicata da tutti i giornali britannici era rimasta segreta per non ostacolare l'inchiesta. Secondo il Daily Mail, si tratta forse della più ampia attività pedofilia mai scoperta in Gran Bretagna. Le indagini riguardano la banda Powell Scott Association, con 2000 iscritti, uscita nel 1970 dalla Scott Association, la principale organizzazione del movimento scoutistico inglese. Per protesta contro le riforme considerate troppo moderne, i sostenitori della fedeltà alle regole stabilite dal fondatore del movimento scoutistico all'inizio del secolo, Robert Baden Powell, lo scorso anno reagirono, attenzione, con grande foga alla decisione della Scout Association di ammettere anche gli omosessuali fra i suoi dirigenti. Il commissario capo dell'organizzazione dissidente, Lavrin Dring, dell'associazione, ribadì con vigore il dissenso sull'apertura delle porte a omosessuali e deviati, guadagnandosi l'appoggio della famiglia Baden Powell, cioè il fondatore dei scout. Ora si è scoperto che la polizia britannica, insieme a quella di Olanda, Francia, Spagna e Belgio, da tempo indagava sull'attività della banda e ha raccolto migliaia di fotografie e video che documentano le violenze sugli scout di Baden Powell, molti i processi già avviati ma non resi pubblici, per altri manca la sentenza. Allora, abbiamo visto questa notizia, questa notizia equivale alla pallottola che ti arriva addosso, cioè i genitori che hanno mandato dei figli all'interno di questa associazione è come se stessero ricevendo una pallottola addosso, cioè hanno ricevuto un grave danno. Bene, la stragoneria dice che una volta che tu hai ottenuto quel danno non puoi fare nessuna situazione per sistemare quel danno, cioè quel danno ti è venuto addosso, cioè si sono create delle situazioni per cui tu hai subito quel danno. Il problema è questo, è di stabilire perché ti sei trovato nelle condizioni a dover subire quel danno, cioè perché tu sei arrivato a mandare il figlio in quella associazione e quella associazione ti ha costruito questo danno. Allora, la stragoneria comincia a chiedersi questo, dice qual era l'intenzione di chi voleva bloccare l'adesione di omosessuali? Questa organizzazione diceva no, gli omosessuali devono stare distante, ma scherziamo, anzi noi ci separiamo dall'associazione principale proprio perché noi gli omosessuali non li vogliamo, gli omosessuali, non so, fanno schifo, cioè gli omosessuali noi non li vogliamo. Ebbene, la famiglia Powell, la famiglia del fondatore degli scout era perfettamente d'accordo con loro. Però il problema è che questi genitori dovevano chiedersi, ma il sesso, quei boy scout, che cavolo c'entra? Cioè la pratica sessuale era così importante all'interno dei boy scout? Cioè i boy scout, l'organizzazione dei boy scout doveva interessarsi così tanto del sesso? Ebbene, questa domanda i genitori non si sono chiesta. Cioè non si sono chiesta perché un'organizzazione scoutistica, che ha ben altri scopi, doveva interessarsi e mettere l'accento così drammatico, così forte, sulla questione omosessuale. Se un omosessuale andava in un'organizzazione scoutistica, era abbastanza evidente che lui era un omosessuale che andava in un'organizzazione scoutistica. Per cui si avrebbe comportato esattamente come gli altri scout, al di là del suo sesso. Anche perché era manifesto il suo sesso. Cioè il suo essere omosessuale era manifesto, per cui chiaramente non avrebbe fatto dei danni. Mentre invece, attenzione, sta banda, la banda Baden Power, Scout Association, considerava il sesso dei ragazzi come una loro proprietà. Per cui i ragazzi erano proprietà dell'organizzazione scoutistica. E questo i genitori non se lo sono chiesti. Cioè, chi era che faceva vivere quell'organizzazione? Erano i genitori che mandavano i ragazzi nell'associazione. Ebbene, questa associazione faceva guerra agli omosessuali, cioè a una parte del sistema sociale in cui si vive, non perché gli omosessuali facessero qualcosa che non andava bene, non perché un omosessuale aveva ammazzato qualcuno, aveva fatto dei delitti, ma solo per il fatto di essere omosessuale. E questi qua non si rendevano conto che l'accentuazione, cioè il mettere l'accento da parte di questa banda sull'aspetto omosessuale, in realtà nascondeva delle intenzioni diverse. Cioè questi genitori non si chiedevano il perché delle cose, non avevano l'intento di andare a verificare ciò che poteva succedere. Cioè in pratica si tenevano distanti da quelle che erano le intenzioni dell'associazione. Però erano loro che mandando i ragazzi facevano vivere questa associazione. Però non erano in grado di chiedere il perché facevano questo. E non erano in grado di chiedersi il perché facevano questo perché avevano rinunciato a praticare la stragoneria. Cioè avevano rinunciato a chiedersi il perché delle cose. Rinunciare a chiedersi il perché delle cose è accettare l'atteggiamento fideistico, è l'atteggiamento folle di chi esce dalla ragione e si affida con fedeltà a ciò che non conosce. E questo è un atteggiamento cristiano. Dunque l'atteggiamento cristiano che questi genitori avevano assunto rinunciando a chiedersi il perché delle cose, gli ha messo nelle condizioni di non andare a verificare quella pallottola che gli andava contro. Cioè di non andare a verificare la situazione grave alla quale affidavano i loro figli. La banda, cioè questa banda, vedeva negli omosessuali in realtà dei concorrenti. Cioè la loro fobia sessuale era talmente accentuata che non vedevano l'individuo omosessuale semplicemente come un individuo che ha il suo sesso. Ma vedevano l'omosessuale un concorrente. Cioè l'omosessuale che magari arrivava a essere dirigente dell'organizzazione, si accorgeva cosa succedeva in realtà all'interno dell'organizzazione e proprio per salvaguardare il suo essere sessuale perché il suo essere omosessuale non venisse messo in discussione denunciava questi comportamenti. Questa era la vera paura di questa banda. E che cos'è che ha generato la paura nei genitori sulla quale questa banda ha fatto leva? Cioè si è messa a inveire contro l'entrata degli omosessuali fra gli scauta. È l'opposizione agli omosessuali che c'è nel sistema sociale. Tutte quelle leggende metropolitane, tutte quelle panzane, tutte quelle cazzate che vengono smerciate dai cattolici, che vengono smerciate da una certa propaganda per impedire, per dividere il sistema sociale in cui viviamo. I genitori si sono fatti fregare dalle loro fobie preconcette. Cioè non si sono chiesti il perché delle cose, non hanno sospeso il giudizio, non hanno esercitato la loro foglia controllata, non hanno esercitato la loro arte dell'agguato nei confronti di una cosa, di un'associazione in cui loro mandavano i figli. Ma si sono fatti fregare dalla fede, dal proprio giudizio preconcetto. Cioè hanno costruito dei preconcetti e questi preconcetti davano la loro fiducia. Più o meno come il cattolico che muore, tanto va in paradiso e invece non trova niente, perché non esiste per lui un paradiso. Se avessero praticato a questi genitori il chiedersi il perché delle cose avrebbero saputo come l'accalimento nei confronti degli omosessuali non era dovuto per salvare i ragazzi, ma per salvare i dirigenti di questa organizzazione, cioè i banditi che dirigevano questa organizzazione. E questo, ricordatevi che questo atteggiamento vale per ogni atteggiamento razzista nei confronti del diverso, nei confronti dell'indicappato, nei confronti della donna, nei confronti del nero, nei confronti del marocchino, nei confronti dell'albanese, nei confronti di quello della città vicina perché noi siamo del nord, vale nei confronti di chiunque quando queste motivazioni di andare contro sono coperte da motivazioni morali. L'omosessuale è immorale, il negro mi porta via il lavoro, il marocchino insidia a mia figlia. Cioè, quando con le condizioni morali si copre il proprio razzismo, c'è del marcio che viene coperto. E questa è una regola generale. È chiaro che affermando questo io invito le persone a mettere attenzione, ma non invito le persone a credere in questo, ma le invito a mettere attenzione e a chiedersi il perché delle cose e a esercitare la propria sospensione del giudizio, esercitare il proprio scetticismo davanti a chi fa i proclami, davanti a chi manda, fa affermazioni forti. Sospendere il giudizio, chiedersi il perché delle cose, ci mette nelle condizioni di non ricevere quella pallottola che ci viene addosso, cioè di non meno amare noi stessi. Nella religione romana, se voi vi ricordate, io vi ho letto un personaggio particolare, io vi ho parlato di fortuna e di forza. Forza è lo sconosciuto che noi abbiamo davanti. Noi non sappiamo dal punto di vista della ragione cosa, ciò che andiamo ad affrontare ci riserva o ci nasconde. Però se noi alleniamo noi stessi, se noi cominciamo a costruire il nostro modo di guardare il mondo, noi diventiamo abbastanza agili per afferrare i segnali che dal mondo arrivano verso di noi. Ecco che chi fa i proclami contro l'omosessualità ci lascia un po' sospettosi rispetto a questo e lasciandoci sospettosi ci mette in allerta, ci mette in allarme, cioè ci mette nelle condizioni di non prendere quella pallottola che ci viene addosso. Ecco l'arte della stragoneria in questo caso avrebbe potuto aiutare moltissimo questi genitori se questi genitori avessero esercitato il crogiolo dello stragone, cioè avrebbero capito dai vari segnali cosa non andava attorno a loro e quale danno probabilmente avrebbero arrecato ai loro figli. Non esercitando l'arte della stragoneria questi genitori sono stati fagocitati, da quelli che erano i grandi proclami di questi personaggi, grandi proclami che hanno avuto anche l'adesione, anche l'appoggio della famiglia Powell, addirittura del fondatore degli scout. Per cui l'immagine, l'apparenza che nasconde la sostanza delle cose, che nasconde la realtà delle cose, loro non sono stati in grado di superarla, cioè non si sono dati quegli strumenti, non si sono trasformati al punto tale da riuscire a superare l'apparenza delle cose per giungere alla sostanza. E questa è l'arte della stragoneria. La stragoneria modifica noi stessi e modifica il nostro modo di guardare il mondo. Modificando il nostro modo di guardare il mondo, si mette nelle condizioni di non farsi distruggere del mondo, cioè si mette nelle condizioni di prendere un atteggiamento corretto per affrontare le cose. E questa è l'applicazione del caroggiolo dello stregone in un caso. Chiaramente tu dici, vabbè, ma la stragoneria, non è che adesso che i ragazzi sono stati torturati e violentati, facciamo una magia che questa cosa non sia mai successa. E questo la stragoneria non lo può fare e non lo può fare nessuno. Però la stragoneria ti può permetterti di metterti nelle condizioni affinché questo non succeda. L'esercizio dell'attenzione nella guida della macchina ti permette di non fare incidenti. Non fare incidenti significa non essere danneggiato dal fatto di non aver messo attenzione nella guida e di essere andato a sbattere. Se tu vai a sbattere diventi gravemente danneggiato, è come la pallottola che ti viene addosso. Ma se tu eserciti l'attenzione e l'arte dell'agguatto mentre guidi, questo non dovrebbe succedere, può comunque succedere perché l'imponderabile è sempre presente, esistono delle variabili che noi non siamo in grado di padroneggiare, però ci mette nelle condizioni affinché questo non avvenga. Ecco, l'esercizio dell'arte della stragoneria ci porta a questo. E questo è il primo esempio. Adesso passiamo al secondo esempio. Il secondo esempio lo prendiamo dal crollo in borsa che c'è stato in questo periodo. In questo periodo c'è stato un grossissimo crollo in borsa. Credo che adesso le borse stiano un po' alla volta riprendendosi, però c'è stato un grosso crollo in borsa, c'è stata la perdita di numerosi capitali. Ebbene, se le persone che avevano soldi erano decise in questo periodo o in tempi precedenti di investire in borsa, avessero esercitato l'arte dell'agguatto, si sarebbero accorde che gli indici economici reali, cioè quelli che davano la crisi del sistema finanziario, bancario ed economico del Giappone, quelli che davano la situazione economica in Russia con gli investimenti da parte della Germania, quelli che davano il discorso della situazione economica nel Sud America, quelli che davano la quantità di piccole aziende che andavano a aprire il loro dito all'estero, quelli che davano la crisi nelle Filippine, in Indonesia e in generale nel Sud-Est Asiatico, ad eccezione del Vietnam. Bene, si sarebbero accorti in quel momento che le borse comunque sarebbero crollate. Cos'è che ha portato loro a investire o cos'è che nascondeva gli indici reali dell'economia? A nascondere gli indici reali dell'economia erano dei dati emozionali. Cioè praticamente cosa succede? Succede che un analista economico fa le sue analisi, prende tutti i dati che ha a disposizione e tra le sue conclusioni. Le conclusioni erano che il mercato azionario sarebbe comunque crollato. Il problema qual è? è che le conclusioni dell'analista economico non si riversano pari pari nei sistemi sociali o fra la gente. Perché? Perché queste conclusioni sono coperte dai dati emozionali. Cioè esistono dei dati emozionali e delle aspettative nelle persone che tendono a non vedere la qualità delle cose. E questo è dovuto a livello educazionale. Esiste a livello educazionale per chi fa operazioni pulite e a livello furbesco, a livello di astuzia, chi fa delle operazioni di pure semplice speculazione. Allora cosa succede? Che se i dati reali dei crolli delle borse indicano che le borse devono cadere e le borse non cadono, significa che c'è una rottura fra la comunicazione del dato reale degli analisti con l'applicazione pratica, cioè l'effetto pratico di quel dato reale. Bene, la barriera che divide le due cose è una barriera emozionale. Cioè la barriera emozionale dice sì, gli analisti dicono questo, ma io penso che le borse comunque continueranno ad aumentare o per me quei dati sono falsi. Bene, la barriera emozionale viene a cadere in base a dei fatti contingenti e abbastanza idioti, tipo il Clinton che si fa a Lewinsky o che ha rapporto a Lewinsky, fa scatenare il dato emozionale, cioè fa rimuovere il dato emozionale che impediva il dato reale di trasferirsi a livello di massa. Bene, in quel momento un dato contingente, un'operazione contingente, un'idiozia come è il Clinton che si fa a Lewinsky, si trasforma in una perdita sui mercati azionali non so a quante guerre mondiali, cioè la perdita dei mercati azionali equivale a un rastrellamento, a un annullamento di capitali che equivalgono a un bombardamento, cioè equivalgono a dei bombardamenti dell'ultima guerra mondiale. Credo che la perdita di capitali equivalga a tante distruzioni dell'ultima guerra mondiale, perché per ricostruire quei capitali occorrerà tanto lavoro, occorreranno tante migliaia di miliardi per ricostruire quel livello finanziario che c'era precedentemente. Ebbene, però le borse sarebbero comunque cadute, perché una volta che il dato emozionale è stato rimosso dall'effetto Clinton-Levinsky, è venuto fuori il dato reale. Il dato reale ha portato al crollo della borsa, portando al crollo della borsa ha distrutto una massa di capitali, per cui chi si era illuso, chi pensava che i dati fossero falsi e aveva comunque investito si è trovato col cerino acceso in mano. Però se questa persona che investe onestamente, non sto parlando degli speculatori, quelli che giocano, oggi Ciampi ha detto che l'economia va bene e allora va sulla borsa, non è vero insomma. Allora uno investe per speculare al momento, oppure è stato come dice il capo della Bundesbank, ha fatto questa dichiarazione e allora la borsa, cioè quelle sono cazzate. Chi investe per effettivamente investire, cioè per mettere al sicuro i propri risparmi, deve effettivamente valutare i dati reali. Se la situazione non coincide con i dati reali, deve astenersi dal farlo. Però per fare questo bisogna imparare a chiamare le cose con il loro vero nome e avere l'intento, l'intenzione precisa di quello che si fa. Cioè non ci può nascondersi dietro le illusioni o dietro delle aspettative che non hanno un referente preciso. Bene, questa operazione in questi termini è un'operazione di stregoneria, perché la capacità che ha l'essere umano di chiamare le cose con il loro vero nome e di non farsi imbrogliare è un'operazione di stregoneria. Se tutta la vita voi la passate dietro la fede nel Dio padrone, voi siete preda a qualsiasi fede. Voitila può dire qualsiasi cazzata, uno che è cattolico può accettare quello che dice Voitila. Voi fate presente che gran parte della miseria mondiale è dovuta, cioè gran parte, non tutta, è dovuta alla guerra che la Chiesa Cattolica e i musulmani e le religioni monoteiste stanno facendo per impedire che il blocco delle nascite, che l'uso di preservativi, l'uso di anticoncezionali si estenda ai paesi del terzo mondo. Per cui e questi qua fanno queste operazioni non solo perché hanno interesse che aumenti la miseria, ma anche per fideismo, cioè per follia, perché si rifiutano di chiamare le cose con il loro vero nome, preferiscono dire ma questo è edonismo, questa è voglia di ricchezza, voi non pensate, i poveri, in realtà non è questo che produce la miseria. La miseria è prodotta da chi è missionari in testa, bloccano l'uso dei preservativi, l'uso degli anticoncezionali e aumentano la popolazione mondiale, specialmente in quelle classi che sono talmente povere che non sono in grado di variare la loro situazione. E questo è chiamare le cose con il loro vero nome. Ebbene, un'operazione di stregoneria è quella di chiamare le cose con il loro vero nome. Se io voglio investire su dei dati emozionali, posso farlo, posso andare al casino, puntare sul rosso e nero i miei capitali, posso vincere o posso perdere. Puntare sulla borsa, sui dati emozionali o su delle aspettative emozionali è esattamente come andare a puntare sul casino. Ma io non mi riferisco a quelle persone, mi riferisco a quelle persone che hanno invece un'intenzione pulita, cioè che pensano effettivamente di investire i loro soldi, mettere a ripare i loro risparmi e dargli un valore. Bene, se quelle persone hanno agito sui dati emozionali che c'erano da sei mesi a questa parte, hanno topato, hanno sbagliato. Perché? Perché si sono illusi, hanno accettato l'apparenza come se l'apparenza fosse reale. In realtà hanno rifiutato di chiamare le cose con il loro vero nome, hanno rifiutato di sospendere il giudizio, hanno rifiutato di mantenere un atteggiamento scettico. Bene, quelle persone hanno rifiutato la stragoneria. Hanno preferito avere un atteggiamento cattolico, un atteggiamento cristiano. Bene, la stragoneria avrebbe impedito a quella pallottola di venirgli addosso. Questo è l'essenza della cosa. Per cui la stragoneria non ferma le pallottole che ti arrivano contro, ma mette in essere strategie di vita affinché nessuno ti spari. Questo vale per ogni apprendista stragone, meno che per me. Io sono l'unica persona per il momento che è esposta anche a questo. Il terzo discorso che voglio andare ad affrontare è il discorso sullo spaccio dell'eroina. E bisogna capire, c'è in giro la domanda questa, come si fa a impedire lo smercio dell'eroina? Se andiamo a chiederlo a tutti quanti, tutti quanti hanno la loro idea e il loro modo di affrontare le cose. Però in realtà nessuno o poca gente si chiede il perché delle cose. Non chiedersi il perché delle cose, non imparare a mantenere un atteggiamento scettico, significa non comprendere quali sono i meccanismi per cui una determinata operazione avviene. Bene, lo spaccio dell'eroina si regge su tre colonne fondamentali. Una è la produzione, la seconda è la distribuzione e terza è il consumo. Sembra abbastanza ovvio tutto questo. La produzione avviene perché gli agricoltori che piantano i papaveri hanno interesse o sono obbligati a farlo rispetto ad altre coltivazioni. Cioè la miseria loro o comunque quello gli sta bene, loro hanno interesse a piantare i papaveri da oppio anziché altre coltivazioni. E questo è una cosa che nessuno può contestare. La seconda è la distribuzione. Per cui cosa succede? C'è chi preleva queste coltivazioni, le trasforma e le porta nei paesi in cui può ricevere soldi e nei quali ci può guadagnare. Queste sono organizzazioni mafiose e per mafiose non intendo soltanto i banditi, intendo anche in molti stati tanti organi dello Stato. Allora, la terza operazione invece è quella del consumo. Ma il consumo non è che si regge il consumatore dell'eroina, ma è l'attività di chi prepara l'individuo a riempirsi di eroina. Cioè l'individuo quando va a comprare l'eroina, facciamo l'immagine all'angolo della strada, tanto per dirne una, ci sono miliardi di modi molto diversi, va a comprare l'eroina all'angolo della strada e è già pronto per farsi di eroina. Cioè l'eroina è diventata l'ultimo, l'unico fine della sua vita. Allora, abbiamo tre condizioni. Il contadino povero o comunque quello che vuole guadagnare di più pianta il papavero doppio. La mafia per guadagnare, al di là che poi sia all'interno degli stati o non sia all'interno degli stati, o sia solo che non sia, non ha importanza, spaccia l'eroina. Terzo, qualcuno prepara le persone affinché assorbono l'eroina. Allora, io non sono in grado di intervenire sulla produzione dell'eroina. Per intervenire sulla produzione dell'eroina è necessario cambiare le strutture economiche di interi paesi. Fate un po' voi. Secondo, io non sono in grado di intervenire sulla mafia che distribuisce l'eroina. Questo può fare lo Stato. Però, ricordatevi che l'eroina viene distribuita, spacciata, perché c'è un interesse economico a farlo. Per cui, se uno Stato vuole bloccare nel tempo lo spazio dell'eroina, deve fare in modo che lo spazio dell'eroina non rappresenti un interesse economico. E la terza cosa è quella dove io posso intervenire, ed è quella di impedire che qualcuno costruisca le persone pronte per farsi di eroina. Ora, quando è che le persone mettono delle aspettative nell'eroina? E parlo dell'eroina come elemento estremo di un certo modo di autodistruzione della persona, perché è più logico. Le persone mettono le loro aspettative nell'eroina quando non hanno finalità, quando non hanno un futuro, quando non hanno più la capacità di costruire la loro vita, quando non hanno più l'intento, quando non hanno più la capacità di sospendere il giudizio, quando non hanno più la capacità di usare la loro attenzione, quando non sanno più cogliere ciò che dal mondo attorno a noi arriva a loro. Bene, per ridurre le persone in queste condizioni c'è una grande organizzazione che lo fa, ed è nel nostro paese il cattolicesimo. Il cattolicesimo battezzando i bambini, mettendoli in ginocchio, costringendoli a recitare il Padre Nostro, costringendoli ad essere persone che affrontano la loro vita, impedendo al sistema giuridico di trasformare quelle persone in soggetti giuridici, cioè in persone che hanno dei diritti legali, dei diritti costituzionali, il cattolicesimo prepara le persone affinché si imbottiscano di eroina. Il cattolicesimo prepara le persone affinché vadino ai lati della strada e comprino l'eroina. Naturalmente questo non avviene con tutte le persone, cioè non tutte le persone recepiscono in maniera uguale, in maniera costante quella che è la coercizione cattolica. Esistono delle reazioni diverse, però esiste una percentuale che fa, quella percentuale che va a comprarsi l'eroina, che diventa eroinomane, lo fa perché il cattolicesimo ha distrutto la loro capacità di vedere il tempo che viene incontro, di vedere il futuro. Allora, io non posso intervenire sulla coltivazione, non posso intervenire sullo spaccio, perché per intervenire sullo spaccio dovrebbe essere lo Stato che fa questo, c'è lo Stato che dovrebbe fare in modo che chi acquista eroina la acquisti senza finanziare la mafia. Va bene, l'individuo sarà distrutto, però l'individuo non andrà a borseggiare le vecchiette, l'individuo non andrà a commettere quei piccoli reati quotidiani che tanto disturbano e in più quell'individuo non andrà a fare proseliti affinché altri si bucano di eroina, perché tanto l'eroina ce l'ha a poco prezzo, cioè non ha bisogno di spacciare a sua volta per avere l'eroina. Per cui nel tempo questo si può bloccare. Bene, queste tre colonne che sono portanti per l'eroina, chiaramente l'educazione cattolica porta anche altre cose, porta la depressione, porta a non essere più in grado di affrontare la vita, porta a pregare, porta a andare a fare le processioni da padre Pio, a invocare la grazia, che è una cosa abberrante, cioè anziché strutturarsi, costruirsi per affrontare la vita, si invoca la grazia. Bene, la stregoneria, il chiedersi il perché delle cose, il sottrarsi della sottomissione cattolica ci permette di intervenire laddove non possiamo fare altro. Cioè noi possiamo dire alle persone che devono cominciare a prendersi nelle loro mani la responsabilità della loro vita e là noi possiamo intervenire in questo modo. Naturalmente noi non bloccheremo mai lo spaccio, perché? Perché non avremo mai mezzi per farlo, però potremmo sottrarre delle persone che possono pensare a questo, cioè potremmo sottrarre tutta una serie di persone all'educazione cattolica per impedire ai cattolici di preparare queste persone affinché si riempiano di eroina e questo è un dato di fatto. Bene, questo avete avuto tre esempi di come la stregoneria può agire nella vita. Ripeto ancora, la stregoneria non ferma le pallottole che ti arrivano contro. Uno che si fa di eroina è una persona persa sempre, non datterete ai vari donciotti e ai vari maledetti che ci sono in giro. È solo un inganno dire che una persona esce dall'eroina. L'eroina ha la capacità di trasformare l'energia vitale in energia vitale stagnata. Se la persona viene fuori dall'eroina, va a fare il guardiano dentro la comunità e si sente importante, si sente padrone di altre persone, chiaramente quella persona non si farà più di eroina, ma dal punto di vista magico quella persona è distrutta, cioè sta solo aspettando di morire. Per cui questo tipo le comunità di tossicondipendenti in realtà sono cose, sono fette di salame per impedire alle persone di guardare in faccia la realtà e di prendere in mano quei provvedimenti strategici che servono per risolvere un problema strategico. Per cui la stregoneria non ferma le pallotte che ti arrivano contro, ma mette in essere delle strategie di vita affinché nessuno ti spari. Se ti metti nelle condizioni tali affinché non vai ai lati della strada a prenderti l'eroina. Questo è la stregoneria e questo vale per tutto il crogiolo dello stregone. Io ho usato tre esempi estremi, tre esempi di vita molto grossi, molto sentiti, però potrei anche parlare della piccola vita quotidiana, dei piccoli grandi problemi che distrugono una persona. I rapporti familiari per esempio, se io mi chiedo il perché delle cose, mi accorgo delle distorsioni che esistono nei rapporti familiari, ma se io esercito la fede, la fiducia, quella fiducia a critica sulle cose, non mi chiedo il perché delle cose, mantengo atteggiamenti scettici, è chiaro che verso me arriverà tutto quello che io nego che esista, ma io mi sto ingannando, io mi sto vendendo a fede, io sto rinunciando alla mia ragione critica, io sto rinunciando al crogiolo dello stregone. In quel momento qualunque cosa mi può venire addosso, qualunque pallotto mi può colpire. Detto questo, che spero di essere stato abbastanza chiaro, vorrei terminare parlando dei nemici della stragoneria. Io, come voi avete sempre sentito parlare da me e da Francesco, noi parliamo del nemico della stragoneria, il cattolicesimo. Il nostro nemico è la religione cristiana cattolica nello specifico. Bene, la religione cristiana cattolica, nello specifico, in questo spazio e in questo tempo, è il nostro nemico fondamentale. Perché? Ce l'abbiamo di fronte. Perché costruisce le condizioni affinché gli individui si facciano di eroina, arrivino alla disperazione, rinunciano alla capacità di prendere nelle proprie mani la propria vita. Siano costretti, ma si non sta a pensare, la sa perdere, temendo in massa il saraveo, bisogna stuarsi, non bisogna darsi da fare, lascia che le cose vanno. Se questa rinuncia continua ad affrontare la vita, a chiedersi il perché delle cose, in realtà è quella che porta alla disperazione. È chiaro che quando si giunge alla disperazione la pallotta ti ha già trapassato. Non sei più in grado in quel momento di mettere in essere delle strategie e di uscire da quelle condizioni. Perché? Perché hai costruito un sistema di distruzione e di autodistruzione. Ricordo che non prendo telefonate per altri dieci minuti, ancora dieci minuti e poi prenderò telefonate gli ultimi minuti. Per cui questo è il cattolicesimo. Ma il cattolicesimo è in questo spazio e in questo tempo. Ma fuori da questo spazio e da questo tempo il nostro nemico è più in generale le religioni rivelate. L'Islam, i protestanti, i metodisti, i testimoni di Geova, la religione ebraica, sono tutti i nostri nemici. Il buddismo, come sta avvenendo adesso, anche tante forme di induismo sono i nostri nemici. Perché questo? Perché le religioni rivelate piegano l'individuo alla rivelazione presunta. Siccome la rivelazione è un falso, le religioni rivelate piegano la persona alla rivelazione. Piegando la persona alla rivelazione impediscono alla persona di espandersi, impediscono alla persona di estendersi, impediscono alla persona di cercare la sua verità, la sua libertà, impediscono alla persona di uscire dall'ambito in cui la religione rivelata li vuole chiudere. Le lotte sociali hanno impedito che le persone finissero sul rogo, però se potessero le religioni rivelate tornerebbero i roghi. L'Islam lo fa ancora alla grande e i cattolici vorrebbero ancora farlo, sono stati bloccati dalle lotte sociali. Ma le religioni rivelate in quei spazi e in quei tempi c'è una fonte che genera le religioni rivelate e la fonte che genera le religioni rivelate è la pulsione di morte, cioè è l'energia vitale quando stagna. L'energia vitale quando stagna tenta di dilatarsi, tenta di espandersi. Ebbene, ogni religione rivelata, ogni religione della sottomissione, altro non è che un'applicazione pratica dello stagnare dell'energia vitale. Quando l'energia vitale stagna non si è più in grado di essere se stessi in affrontare il mondo, ma si ha bisogno di altre persone della propria specie che per noi affrontino il mondo. Dunque dobbiamo impossessarsi di quelle persone perché altrimenti noi non siamo più in grado di affrontare il mondo. Dobbiamo mettere in essere delle strategie per impossessarsi delle persone e metterle in ginocchio. Ebbene, impossessarsi delle persone e metterle in ginocchio, cioè sottometterle in termini più generali, è un'azione della pulsione di morte, è un'azione dell'energia vitale stagnata. Per cui l'energia vitale stagnata è il nostro primo nemico che genera delle tecniche, delle tattiche, per applicarsi praticamente, l'applicazione pratica degli effetti dell'energia vitale stagnata si ha nelle religioni rivelate. In questo spazio e in questo tempo è il cattolicesimo. Ma questo non è il nostro solo nemico, come pagani apprendessi i stragoni. C'è un altro nemico che sta arrivando, un altro nemico grosso, enorme, che si nasconde. Ed è l'energia neutra. Cos'è l'energia neutra? L'energia neutra è l'energia di movimento, cioè una non-energia in pratica. È la ragione. È la ragione che dà un termine, che dà un modo per relazionarsi all'interno del sistema sociale, all'interno delle persone. Io affronto le cose attraverso la ragione. Se io vado in automobile, so che devo elencare il volante, la portiera, il motore, eccetera. Ho una serie di cose che mi permettono di andare in automobile. Questa è la ragione. Ora, finché io uso la ragione fuori di me, va tutto bene. La ragione vince lo sculantismo e io ho la relazione fra le persone. Ma c'è un'operazione in corso, che è quella del tentativo di calare la ragione dentro all'essere umano. Non la ragione come modo di vivere, come modo di affrontare la vita, ma la ragione per affrontare l'essere umano in quanto fatto di ragione. L'essere umano come ragione è la cosa più squallida e più abberrante che esista. Perché questo? Perché c'è il gene dell'aggressività, c'è il gene dell'ubriacatura, c'è il gene dell'aggressività, c'è il gene della crimine. Ormai siamo arrivati a un punto in cui sembrerebbe che la nostra struttura del DNA contenga tutti quelli che sono i nostri comportamenti sociali. C'è un tentativo da parte di alcune persone, che non è tanto lo scienziato, ma quanto la propaganda sociale, l'effetto sociale, di calare il meccanicismo di laboratorio dentro la testa delle persone. Cioè trasformare le persone come una macchina, l'abbiamo già sentito. Il cervello funziona come un computer. Il computer è semplice, il cervello è un po' più complesso. Siccome il serpente ha un cervello piccolo, non è in grado di avere delle strategie di vita. Non è vero. Il serpente ha delle strategie di vita. Cioè c'è il tentativo da parte di alcuni di trasformare l'essere umano in una macchina, dove tutto quello che noi abbiamo dentro, cioè la magia della nascita e della morte, in realtà secondo costoro dovrebbe essere una cosa meccanica, una cosa meccanicistica. Bene, questa operazione che sta avvenendo avanti, è già stata portata avanti in modo diverso, però si sta preparando adesso, è un'operazione di energia neutra, in pratica di energia di movimento, dove tutto è movimento e tutto è determinato dalle varie parti che si compongono. Per cui non esiste più la costruzione dell'individuo, perché tanto l'individuo ha il gene dell'aggressività, dunque se è aggressivo è perché ha il gene, ha il gene dell'ubriacatura, dunque se si ubriaca è perché ha il gene. È vero che la faccenda è un po' più complessa, però è il tentativo di calare la ragione da relazione degli esseri umani, dal modo con cui gli esseri umani si relazionano col mondo che ci circonda all'interno dell'essere umano. E questo è il tentativo di trasferire la struttura scientifica, cioè il modo scientifico di leggere alcuni fenomeni in laboratorio dentro all'essere umano, cioè i fenomeni in laboratorio funzionano perché i fenomeni vengono circoscritti. Se io prendo il fenomeno in laboratorio e lo metto dentro all'essere umano, sto tentando di costringere un essere umano che saliva quando io gli porto il cibo senza per questo necessariamente metterlo dietro le sbarre. L'esperimento di Pavlov, il cane dietro le sbarre viene condizionato al punto tale che lui saliva quando io gli porto il cibo. Ebbene, se io altero il gene che lui ha dentro, riesco a far salivare l'essere umano quando io gli porto il cibo. Cioè attenzione a questo, esistono delle cose che sono in formazione e che hanno una pericolosità che è incredibile e questa pericolosità è pari alla pulsione di morte, è pari all'energia vitale stagnata. E l'attenzione a questo lo possiamo fare soltanto attraverso il crogiolo dello stragone. Perché questo? Perché gli altri, tipo le regioni rivelate eccetera, per difendersi diranno non devi fare la sperimentazione, non devi manipolare il gene, non devi manipolare l'embrione, l'embrione ha questo, st'altro, ha quello. Sono tutte cazzate. Sono tutte cazzate perché? Perché la manipolazione genetica fa parte dell'essere umano. Cioè l'essere umano ha le mani e all'interno della natura la sua funzione è anche quella della manipolazione genetica. Chiaramente se l'essere umano mantiene la manipolazione genetica con l'idea di essere creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, beh, casini ne farà tanti, ma tanti, ma tanti. E tutti quei casini che farà si ritorceranno quasi esclusivamente contro l'essere umano. Perché ricordatevi che la natura nei mutamenti riesce sempre a ricomporsi, che riesce sempre a ricostruirsi. Bene, io ho detto quello che dovevo dire, anche se so che non sono stato chiaro. Ho parlato a braccio e spero di aver esposto alcune cose. Se volete telefonare, il telefono è 700-700 e 700-838. Mi riservo di buttare giù le telefonate che ritengo inopportune. Bene, andando avanti a questo punto, io vi ricordo alcune cosette. Vi ricordo che il giorno 9, venerdì 9, notte, farò un notturno insieme a Mario di Vicenza, in cui parleremo del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e presenterò anche, nel corso a trasmissione, dipende come avrò possibilità, dei pezzi di Dimo Giuda Tommaso, l'ultimo stragone pagano. Cosa sto facendo? Siccome quel Vangelo che è stato ritrovato sotto le sabbie del deserto, è una via alla stragoneria, è una via allo sviluppo dell'essere umano. In quel Vangelo, tanto per dirci, c'è anche un aspetto che può essere considerato evoluzionismo, cioè c'è un riconoscimento della possibilità evoluzionistica, tanto per essere chiaro, c'è il riconoscimento della necessità della parità uomo-donna interno nel sistema sociale. Cioè, ci sono tante cose che, vediamo un attimo. Pronto? Non ancora. Ho sentito prima il messaggio, ecco. A proposito della droga, non penso che ci sia tempo per rifarci le cose che rispondevo nel pomeriggio, ma dico, l'organizzazione ha fatto tempo a cattolica, comunque non faccio denominalismo o vorrei, come dire, rifarmi a quella parola, magari è sfuggita o meno. Organizzazione cattolica, non so cosa voglio dire. Comunque, il cattolicesimo, in Italia, mettiamo che sia dimostrato quanto lei dice, e comunque lei non ha dimostrato, l'avrà dimostrato in qualche altro posto, non so, la dimostrerà. Lei, secondo me, ha fatto una sessione, una sessione gratuita. Tagliamo la domanda subito. Ecco, dico, in Cina, no? In Cina, in Iran, ma in Iran c'è il monoteismo. In Cina, in Giappone, non c'è il cattolicesimo, nemmeno il monoteismo. D'accordo, ciao, arrivederci. Chiedatevi una cosa, se volete combattere il comunismo, se volete combattere altre cose, arrangiatevi con quelle altre cose, non venite a rompere a me. Perché questo? Perché il discorso è che il cattolicesimo ha invaso tutti gli aspetti della vita sociale, ha invaso tutte le relazioni fra gli esseri umani. Cioè, a me non mi frega niente che voi ce l'abbiate col comunismo, ce l'abbiate con quello, e arrivate a giustificare le porcherie del cattolicesimo con quello che fanno gli altri. Se tu spari a qualcuno, sei responsabile di omicidio. Non puoi giustificarti dicendo ma anche lui ha ammazzato. Non esiste sta roba. Cioè, tu, se ammazzi qualcuno, sei responsabile di omicidio. Se un altro l'ha ammazzato, è responsabile di omicidio. Cioè, tu non puoi nascondere il tuo modo di pensare dietro a quello che fanno gli altri. Pronto? Ancora. Per cui, questa tecnica, questa tecnica di lavoro, è di quel pazzo di Nazareth, è di quel miserabile, che quando i farisei andavano da lui a dirgli ma porca miseria, perché i tuoi non... non rispettano le tradizioni. Lui non diceva i miei non rispettano le tradizioni perché io non sono d'accordo con le vostre tradizioni. No, diceva voi siete i delinquenti, voi siete i lazzaroni. Per cui, è inaccettabile questo tipo di atteggiamento. Questo tipo di atteggiamento è semplicemente offensivo. Perché? Perché parte dal presupposto che quello che dico io è inaccettabile da te, però tu, anziché dire è quello che dici tu, non mi sta bene, tu vai a dire manca st'altro fa quello, manca st'altro fa st'altro. Ma non me ne frega niente che quello che dici tu. Se tu ti vai su Radio Maria e ti fai le tue affermazioni, cioè questo fai i tuoi. Per me, Donciotti, con la sua organizzazione, sta facendo delle porcherie in questo paese. Parlo Donciotti, parlo di San Patrignano, parlo di tutta questa gente qua. Per cui, se tu vuoi giustificarli e se tu vuoi giustificare l'azione della Chiesa Cattolica nel costruire schiavi, nel costruire gente che va a topparsi di eroina, non puoi andare ad accusare i cinesi. Se vuoi accusare i cinesi perché i cinesi fanno delle porcherie, tu ti fai le tue trasmissioni, e ti vai a Radio Maria e dici che i cinesi fanno delle porcherie, sono cazzi tuoi. Però tu non puoi giustificare un delitto fatto da te col delitto fatto da un altro. Questo non è accettabile. Cioè, questo, il pazzo di Nazareth, purtroppo, insegna questa tecnica. Perché siccome lui commette delle atrocità, commette delle infamità rispetto agli esseri umani, dice, ma siete voi avari, siete voi crudeli, siete voi cattivi, malvagi come siete. E questa tecnica non è accettabile. Nella società civile non si può, nel modo più assoluto e categorico, accettare questo modo di ragionare. Chi fa un delitto ha fatto il delitto. Non può giustificare il proprio delitto quando anche altri fanno lo stesso delitto. Non è accettabile. E inoltre, questa tecnica ha un'altra possibilità. Ha la possibilità di allontanare la critica. cioè la critica che fai a me io la allontano perché la svio perché anche gli altri fanno la stessa cosa. E questo è un atto sporco. Cioè, questi trucchi oratori, questi trucchi retorici sono sporchi, sono da vili. Perché solo i vili si comportano in questo modo. Per cui, hai capito Luigi da Treviso? Quel tuo comportamento è un comportamento vile. Pronto? Ah, sì? Come no? Ciao. Questo è un modo di rapportarsi con le persone non è assolutamente accettabile. E questo qua è un comportamento che è scorretto. È scorretto nella vita di tutti i giorni. Voi provate a mantenere questo atteggiamento se siete capaci davanti a un magistrato. Pronto? Voi provate andare da un magistrato e andate dal magistrato a dirgli Migo Coupa? Manca Luca Coupa! Provate a vedere cosa un magistrato vi dice. Per cui, questi trucchi che voi usate rispetto alla gente comune sono semplicemente dei trucchi da baraccone. Sono dei trucchi squallidi. Sono dei trucchi trucchi scorretti. Dopodiché, perché tu vai da Radio Maria, ti fai tutte le trasmissioni che vuoi e dici tutte le cose che vuoi. Io considero Luigi da Treviso un provocatore. Perché? Perché usa questi sistemi, perché usa questi metodi. Per cui, purtroppo, il telefono è aperto, lui può provocare all'infinito. Io non andrò mai da Voitila a dire di spari delle cazzate. e purtroppo questi ce li dovremmo assorbire come tanti altri che prima ci siamo assorbiti. Pronto? Ecco, vedi, in Cina non c'è la Voitila. Cioè, abbiamo a che fare con una persona che parla della Cina. Bene. Allora, lui va da Radio Maria e parla della Cina. Allora, detto questo, visto che ormai abbiamo stabilito che il telefono è bloccato da chi provoca, e andiamo avanti. Vi ricordo che è il primo martedì del mese siamo con Franco. Sono da Franco a fare la discussione. Io porterò quello che ho io e gli altri porteranno quello che hanno e la discussione andrà per quello che andrà. È indifferente. Franco ha una sua tecnica nel portare avanti le cose e ha un suo modo di rapportarsi con le persone che è estremamente interessante. Anche se a me appare un po' nuovo però dà molti frutti comunque. penso che le persone abbiano molto piacere a confrontarsi in quella situazione. E niente, il primo martedì del mese ci sarò anch'io. Poi un'altra cosa, vi ricordo appunto che sono con Mario di Vicenza. Pronto? Ciao Gianpaolo. Claudio. Volevo portarti giù un giorno all'altro delle foglie di catalpa prima che vadano secche dove vorrei osservare assieme a te come in questa pianta che penso sia una pianta tropicale perché ne sono anche poche. Io ho tutto il giardino pieno di queste piante che chiamano infestanti qui da noi. Alzi per me non sono infestanti sono piante rispettabilissime e per me meravigliose. Ci hanno delle foglie una diversa dall'altra. Vedessi che roba foglie lanciolate però sono a cuore sono a lancia hanno mille modi diversi di esprimersi e sarebbe interessante vedere assieme come queste si autodefiniscono quasi di forma si formano come vogliono loro in un certo senso io la vedo così mi spiego cioè hanno la voglia proprio di formarsi in quel modo proprio non si assomigliano ma non sono uguali vedessi che roba sarebbe interessantissimo di vedere questa pianta che ha delle foglie con una diversità tremenda l'una dall'altra vedessi che roba interessante e questo per me il significato cioè a me dà un significato questo il fatto di autodefinirsi mi spiego mi piacerebbe assieme vederle assieme parlarne anche per radio una volta l'altra vengo giù portali penso che per qualche foglia la pianta non si offenda non credo e così io penso che l'uomo abbia la capacità non l'uomo l'essere vivente l'essere vivente senza distinzione per me ha il diritto e la capacità di autodefinirsi questa è una mia regola che fa forse ridere ma per me va bene ti saluto Claudio ciao 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 in effetti l'essere umano ha delle specificità sue cioè ogni essere umano è diverso da un altro essere umano perché ha delle sue caratteristiche ha delle sue specificità e probabilmente questa pianta lascia ad ogni foglia delle sue specificità con cui riprodursi con cui costruirsi io questa pianta non la conosco non ho mai vista non ho neanche idea di che pianta sia probabilmente mia figlia la conosce sì in effetti la diversità che noi abbiamo individuo per individuo è ciò che ci salva cioè le differenziazioni che ci sono fra individuo e individuo è la ricchezza sociale e anche le differenziazioni che c'è fra un pagano e un altro pagano appartengono a quella che è la ricchezza sociale detto questo continuo ancora il discorso abbiamo già parlato del primo martedì del mese con Franco qui in radio e invece in libreria Tolpada a Treviso il giorno il giorno 31 ottobre il giorno di Halloween presenterò i fenomeni di premorte interpretati dalla stragoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella legione dell'antica Roma perché che relazione c'è fra le due cose fra le due cose è che nel paganesimo nella stragoneria si affronta la morte come si affronta la vita cioè tutto quello che hai accumulato durante la vita lo perdi all'atto della morte del corpo fisico ma mantieni una cosa importantissima mantieni tutto lo sforzo che hai fatto per affrontare la vita cioè lo sforzo il tuo organizzarti il tuo costruirti il tuo compattarti il tuo bestemmiare il tuo stringere i pugni il tuo chiamare le cose con il loro nome portano a un'organizzazione dell'individuo portano a un'organizzazione della persona portano a un'amalgamazione dell'energia vitale che al lato della morte del corpo fisico se lo porta dietro cioè in realtà quel patrimonio il patrimonio con cui noi abbiamo affrontato la vita le tensioni che abbiamo attraversato sono le uniche cose che ci portiamo dietro pertanto sia i fenomeni di premorto interpretati da stregonarie del paganesimo politeistica sia ciò che porta a diventare tali nella religione romana pronto? si? pronto non mettere giù per carità non sono una persona di Treviso sono lo stesso che vi ha telefonato oggi quando avete fatto la prima trasmissione sul paganesimo si ecco io purtroppo ho acceso la radio adesso cinque minuti fa perché sono tornato da impegni che avevo lavorativi sono Pietro di Vicenza si si ho capito pronto? ho capito e purtroppo sento pochissimo mi senti adesso? si un po' meglio si tra l'altro il telefono ce l'ho in una stanza e la radio in un'altra quindi sono un po' mi senti adesso? si 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 no niente è che vando a tutte queste polemiche Claudio state dicendo delle cose abbastanza interessanti solo appunto volevo chiederti se magari puoi anche spiegare in maniera un po' più particolareggiata forse un po' più approfondita anche cosa pensate voi cioè quali sono le vostre concezioni della vita dopo la morte e mi spiegate un po' più particolarmente anche cosa significa questo paganesimo praticamente allora voi parlate della religione romana e greca però in senso puro quindi escludete anche tutto il fenomeno ellenistico che c'è stato dopo tu mi stai tu mi stai chiedendo moltissimo si si lo so lo so di fatti mi incuriosisce tanto quindi noi siamo uno sforzo per ricostruire il paganesimo cioè ciò che è andato perduto di tutti i paganesimi ma vale anche per quello indiano mi hai detto tu no? si 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 beh io quello indiano poi anche al limite visto che è stata citata la Cina io ho un grosso interesse anche verso la Cina e la Corea perché c'è lo sciamanesimo puro ma da migliaia di anni da loro ed è una civiltà grandissima il nostro sforzo il nostro sforzo è quello di ricostruire quello che è il pensiero pagano naturalmente noi non è che prendiamo cioè il termine pagano intanto non esiste ci sono fanno inventato i cristiani era una dichiarazione di guerra rispetto a questi idioti che esistevano però gli idioti che esistevano avevano una percezione del mondo che ci circonda e il mondo che ci circonda è vivo e consapevole di se stesso si ma allora voi parlate un po' di entità spirituali in questo mondo che ci circonda un pochino più complesso sarebbe meglio che ci parlassimo sì guarda io mi hai dato il tuo indirizzo di fatti oggi ti scriverò una lettera va bene ci sono anche su elenco telefonico guarda scusami Claudio purtroppo sento pochissimo ci sono anche su elenco telefonico sì sì mi hai dato anche l'indirizzo di fatti adesso guardo un po' meglio e ti scrivo appena un po' di tempo ti scrivo una lettera abbastanza approfondita perché avete detto anche oggi stai dicendo adesso delle cose molto molto interessanti che mi interessano molto per carità ecco ti dico io non ce l'ho a morte fino a questo punto con i cristiani diciamo che li ho un po' esclusi nel senso che il 99% di voi è meglio che mi lasciano in pace perché appunto portate in giro queste idee di odio di soprafazione con cui io non posso più essere d'accordo anche perché parto dalla concezione buddista da quella che era la concezione ben prima del buddismo in Tibet di portare rispetto e forse anche compassione a tutte le creature e qua penso che ci troviamo abbastanza d'accordo usiamo il termine compassione cioè vivere la stessa passione sì 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 una compassione molto piena diciamo non la compassione tipo il tipo compatire no no ma questo lo so lo so fortunatamente senza vantarmi però penso di aver acquisito anche una certa conoscenza se non altro nel mio campo ecco io volevo citarti soltanto nel nome di alcune mie amiche molto care femministe i 10 milioni di donne che sono state uccise dal tribunale dell'inquisizione che non erano streghe cattive che però erano donne che ricercavano tramite l'alchimia tramite i loro metodi un qualcosa che potesse liberarle da una situazione che era tremenda nel medioevo io non ti posso riassumere abbiamo superato le 100 trasmissioni sono quasi due anni che trasmetto guarda purtroppo non io non ascoltavo quasi mai la radio anche per mancanza di tempo comunque senti io ti rinnovo ancora tanti auguri è una trasmissione veramente fatta molto bene e ti scriverò più approfonditamente in lettera allora va bene ok grazie a te continuo a sentirti intanto e ciao arrivederci ciao il problema è che riassumere riassumere tutto quello che abbiamo detto è pesantissimo comunque tieni presente questo la più grande divinità che noi abbiamo è libertà e libertà è una una tensione divina che circonda ogni essere esistente e che spinge per rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita del singolo essere umano per cui libertà nel potere di essere è una grande divinità perché spinge ogni essere umano ogni essere da natura ogni virus ogni alberge a rimuovere quanto ostacola la propria dilattazione le proprie trasformazioni per quanto riguarda a ciò che mi circonda ciò che mi circonda è estremamente complesso perché esistono esseri di solo energia vitale non è che gli dia più di tanto valore però esistono esistono alberi esistono piante esiste la terra ed esiste il mondo vediamo ancora il telefono pronto? ciao di me ciao Giuseppe la maestra dimmi ciao prima parlavi che non ho ben capito che è la relazione tra mani e manipolazione non ho capito in che senso? no ma mi non ho parla di manipolazione lo spiace ma oggi non ho assolutamente parlare di sta roba si manipolare i geni dal momento che abbiamo le mani si 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 allora è attività della genetica si si no no pensavo un'altra cosa pensavo un'altra cosa no non vedo la reazione perché abbiamo le mani si ma non vedo la manipolazione di qualcos'altro o no? ok ti rispondo per radio ciao 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 una risposta brevissima anche a questo radioascoltatore perché già il cambio è arrivato perché non prendo più le telefonate dunque l'essere umano ha le mani con le mani può manipolare la vita può manipolare la struttura genetica può manipolare la natura può tagliare gli alberi quello che lui fa nella natura è autorizzato a farlo cioè non è che si debba impedire che lui lo faccia il problema è che se non lo fa con il giusto modo di guardare il mondo questo si ritorce contro di lui cioè l'essere umano può inquinare può trasformare tutto l'ossigeno in ossido di carbonio ma muore avvelenato la natura non è che ci risente perché anche se soffoca tutta la natura comunque la natura in mezzo milione di anni un milione di anni dieci milioni di anni si ricostruisce per cui noi non danneggiamo la natura danneggiamo noi stessi vi ringrazio per avermi ascoltato questa stramissione magia stragonaria paganesimo ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 15 e alle ore 19 riprenderemo il discorso sul sentiero d'oro grazie per avermi ascoltato io sono Claudio Simeoni piazzale parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'istituto mediterraneo studio politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo a giovedì prossimo